Tu con Fazzina ti siederesti a parlare di economia? Ma io mi siedo a parlare con chiunque, ma io non sono un economista, loro sono gli economisti, c'è uno studio sugli economisti. Però ti siederesti a parlare con questi che storcono il naso all'interno del tifo? Ma io posso parlare con chiunque, sono curioso, parlo con chiunque. Le corren con Berlusconi non hai parlato. Ma voglio dire, ma di che cosa parlo con queste persone qua? Se parlo col tassista ho una visione più completa di un paese. Cioè tutti questi specialisti, cattedratici, laureati alla Bocconi, quando vai non hanno azzeccato una. Hanno fatto uno studio su 300 specialisti Nobel, sui Nobel, uno studio dell'Università della Pensilvania, 20 anni di studi su 25.000 pareri, non hanno azzeccato una. E non hanno l'umiltà di dire abbiamo sbagliato perché hanno un'autostima a livelli enormi. E allora che un comico, un ex comico, possa dare una diagnosi economica magari più giusta, perché magari l'ho letto, mi informo, non perché sia più intelligente o più colto. Non l'accetteranno mai. Come non accettano il fatto che noi siamo persone per bene. Dietro devono vedere qualcosa, non ce l'hanno nel DNA. Come fanno a capire uno come me, Casaleggio, quelli del movimento che lavorano senza soldi? Senza. Anzi, rimettendoci. Dico c'è sotto qualcosa, Casaleggio, chissà chi c'è dietro, dietro di me, i miliardi, le società. Ti ricordi le società in Costa Rica? Io avrei 15 società con l'albero, con l'hotel 6 stelle. Si inventano queste cose qua. Ma allora capisci che sono persone che non riescono a capire che uno può fare delle cose anche per gli altri. Però per Renzi è follia il reddito di cittadinanza, non si può fare? Non parlo di queste, è follia, non follia, che cos'è la normalità, questo governo qua, la normalità, che prende i titoli e dice aboliamo le province, ci sono, togliamo i vitalizi, ci sono. Che cosa sta parlando? Questa gente non è credibile. Gliel'ho detto il primo giorno, quando l'ho visto in faccia. Gli ho stretto la mano, ho detto tu sei uno che mente e quando io non posso sedermi in un tavolo con uno che mente, guardandoti col sorriso. Queste sono le persone. La percentuale che sogni per le regionali? La percentuale che sogni per le regionali? No, no, la percentuale del movimento è il 100%. Quando il movimento sarà il 100% il movimento scomparirà, ma scomparirà il movimento perché i cittadini saranno lo Stato, è bellissimo. Però il secondo posto, la medaglia d'argento è quello che fa? Ma no, ma guarda, va bene, va bene tutto, va bene così. Guarda, la gente comincia a capire che noi stiamo facendo una rivoluzione mettendo delle persone per bene al posto dove non ci sono mai state. Grazie per te. I nomi imbarazzanti invece nelle liste del PD? Trillo.